Ciao a tutti, benvenuti su un altro video, sono Teddi Nati, oggi sono qua con un amico, da tanto tempo che proviamo a fare questo video, questo mio amico ha tanto da raccontare oggi, sono stanco quindi il mio italiano oggi sarà un po' così, quindi io lo lascio al mio amico per dire il suo nome, chi è e così iniziamo da lì. Vai amico mio! Ciao a tutti, ciao amici di Teddy! Io sono Manuel, ho 30 anni e sono appassionato di sport da quando sono nato. Ah, meno male, si vede, magari qua non potete vedere il suo fisico tanto, però ragazzi credetemi che è molto fisicato e lì si dà l'affare, non è come me. Sei troppo gentile. Lì si dà l'affare, si sveglia presto, si va a allenare, eccetera, anche se lui è molto, molto, molto uomo di famiglia, molto uomo di famiglia. Complimenti, infatti questo sarà una cosa che dobbiamo anche parlare magari dopo, come riesci a fare tutto insieme. Comunque iniziamo da, come sei iniziato, come hai iniziato a allenarti a fare sport? Teddy, allora, è una passione che ho da quando sono bambino. Ho iniziato col calcio, come è molto classico in Italia, diciamo, e ho giocato per quasi 20 anni. Poi arriva un punto che o fai una carriera semiprofessionistica o lasci, perché ti dà da vivere. Però lo sport fa parte di me, quindi fermo non sono mai stato. Dopo che ho lasciato a livello agonistico ho iniziato a fare tornei, campionati amatori, tra amici, no? Però non seguendo più allenamenti gli infortuni erano sempre alla portata di mano, ok? Perché giochi magari non con la giusta preparazione, non hai più quel passo, ti arrabbi, vuoi averlo, quindi hai una certa di ci sai che c'è? Basta, perché così mi faccio solo del male. Sai, anch'io ho giocato calcio per tantissimo tempo, eh? Anch'io ho giocato, una volta avevo questo. Tu che ruolo facevi? Difficiore centrale. E anche io, grande. Ah sì? E io avevo sogno che diventavo calciatore, poi come dici tu, se lo fai lo fai, se no dopo un po' tu il genitore ti dice oh, il ragazzo... Inizia a crescere, poi. Devo anche andare a lavorare, però è una bella esperienza. Anch'io dopo ho smesso calcio, dopo esattamente tre anni o due anni ho iniziato anch'io a allenarmi in palestra, però tu sei tanto dedicato. Da quanto tempo ti stai allenando adesso? Guarda, in realtà la palestra è iniziata a novembre del 2022, quindi non è tanto che ho iniziato palestra. Questo mondo mi è nuovo, perché... Ah, così poco? Sì, perché mi sono sempre allenato a corpo libero. Ah sì? Quindi nei parchi, per me non esisteva inverno-estate, tanto bastava coprirsi, sai, con pantalona termica, con maglia termica, zero scuse e mi allenavo anche d'inverno. Quindi per quattro anni, cinque anni, ho fatto solo corpo libero, con qualche attrezzo, peso, kettlebell, gile zavorrati, quindi qualcosa in più, però solo corpo libero. Questo è stato buono per me, perché ho strutturato tanta forza nel mio corpo, che quando sono entrato nel mondo della palestra, che poi attenzione, non faccio solo palestra, perché comunque mi piace correre, mi piace avere un fisico dinamico. Ah, sì, sì. Però devo dirti la verità che mi sta appassionando il mondo della palestra ultimamente. Eh, io invece adesso non riesco più a correre. Io sono una persona che ha fatto una scuola, fatto salto alto, salto lungo, fatto 100 metri, 200 metri. Quando andavo a scuola all'epoca, però sai una cosa? Non so se i muscoli o qualcosa è successo. Adesso quando andavo a correre, mi vedo molto più lento. Uno volte è molto, molto, molto veloce. È normale. Il fisico cambia. Facendo palestra è inevitabile che comunque metti su massa e inizi a rallentare il tuo corpo. Quindi a me, proprio per questo, voglio mantenere attiva alla corsa, sport a colpo libero. Poi d'inverno mi piace fare snowboard. Poi se ogni tanto capita una partita a calcio o padel, voglio essere agile, avere un fisico potente, no? Sì, uno fisico di atleta, dici? Sì, sì, sì. Fisico di atleta. Non solo bodybuilder, ecco. Ah, ok. Infatti, l'ultima volta ho provato di fare 20 bad piss. In palestra, dopo all'avete, ho fatto di fare 30 bad piss. Te lo giuro, ho fatto fatica. Stai morendo. Ho fatto tanto fatica. Ho detto, mamma mia, devo iniziare a mettermi anche un po' di cose di altri sport. Ma guarda, basta anche poco. A fine allenamento fare quei dieci minuti di attività un po' più cardio, iniziare a fare fiato, far battere un po' il cuore, no? Per smuovere di nuovo. Però se non ho mai avuto, io non bevo, non fumo, però non ho mai avuto tutto questo fiato. Per quello facevo solo 100 metri e 200 metri di corsa. Perché se magari mi fa 400, già di là ero stanchino. Beh, lì dipende anche come è predisposto il tuo fisico. Io non sono mai stato un velocista, però un toro, come ti posso dire, resistente. Non mollavo mai. Io invece dico, guarda, non posso morire. Andate avanti. Anche quando giocavo calcio. Sì, andavo, a volte sai, quando ti sei preso della partita, corri avanti. Poi guarda indietro. Mamma mia, devo correre indietro anche di là. Quindi ci sta, ci sta. Infatti, a me piace, io vedo che tu ti alleni e fai diverse cose fatte. Ti ho invitato per questo canale. Anche io, dopo, quando ho smesso di giocare a calcio, quattro anni, ho iniziato ad allenarmi. Poi, per tre anni, poi è successo Covid. Sono fermato di nuovo per altri tre anni o due anni e mezzo, diciamo. Adesso sto iniziando di nuovo. Speriamo che non succeda un'altra cosa. Ho visto qualche tua foto 2018. Mamma mia. Adesso mi fai vivendo a piangere. Uno vuoto è un bel. Guarda, questo può essere anche per te fonte di ispirazione. Perché se adesso sto facendo quello che sto facendo e ho due bimbi, tu ne hai uno, puoi farla ancora più di me. Sì, sì, sì. Infatti, adesso che i bimbi stanno crescendo, però, quando ero più piccolo, non mi andava di andare tanto in palestra. Non è perché non potevo, però solo perché non avevo tempo anche, sai, tu lavorando e facevo un lavoro che quasi tutto giorno ero fuori di casa. Quindi, quando tornavo a casa, quello piccolo tempo di là, stavo con lui. Poi, a volte, dovevi svegliarmi troppo presto, però durante l'acqua di la giornata ero troppo stanco. Quindi ho detto, boh, mi dà tempo un pochettino che lui si cresce. Sei stato proprio fermo? Sì, sono stato fermo. Sono stato fermo. Ogni tanto scappavo, andava a fare mezz'ora, poi tornavo. Però, diciamo che ero fermo, fermo. E riuscivi? Non c'era qualcosa dentro di te che diceva? Sì, sì, sì. Sì, però, sai, il bambino all'epoca, essendo che anche il mio compagno era da sola a casa e sai che i miei genitori non sono qua. Quindi aiutavo sullo suo e quindi per non fare peso sulle persone, perché alla fine il figlio è tuo, capito? Quindi ho deciso. Però andavo ogni tanto, andavo ogni tanto poco poco. Però, infatti, anche te tu ti svegli molto, molto, molto presto, eh? Sì, sì. Questa è una decisione, nel senso, perché nessuno mi impone di andermi a allenare. Però è proprio una... il mio stile di vita ormai. È come se è un... il paragone è brutto, però, per far capire. Un tossico è dipendente dalla droga e io sono dipendente dall'allenamento. Ok. Quindi, adesso con due bimbi, per non togliere tempo a loro, perché ho anche attualmente un lavoro da dipendente, che dopo vi racconterò, sto lavorando per poterlo togliere, questo lavoro da dipendente, e l'unico arco di tempo per non disturbare e togliere tempo a nessuno è andare al mattino. Quindi sveglia alle 5. Sì, sì, lo so. Non dico tutti i giorni, ma quasi. Ovviamente questo vuol dire che si va a dormire non più tardi alle 10. Ah, io... guarda, io prima di mezzanotte non riesco a dormire. È proprio una cosa strana. Eh, ma non possono combaciare le cose, perché il fisico dopo un po' ha bisogno di riposare. Sì, 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 infatti. Infatti ho visto, complimenti comunque, però anch'io inizio a impegnarmi a andare presto a allenarmi anche la mattina. Anche se io ti ho già detto prima che... Ah, eh, sì, vedevo presto così facciavamo insieme, però... Non l'ho mai visto. Sì, sì, sì. Lo sto ancora aspettando in palestra. Però, anche se è sempre strano, una volta andavo in palestra presto. Perché? Anche la palestra era più lontano, perché mi allenavo sull'altra parte a Cosa Bassano. Sì. Era più lontano, però andavo una volta. Dormivo anche tardi, però se lo sapevo che tornavo a casa, prima di essere papà, tornavo a casa, a volte mi riposavo un pochettino ancora e andavo a lavorare. Però adesso tu lo sai com'è. Eh, sì. Io se metto piedi in casa, mio figlio ovviamente vuole giocare. Sì, 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 sì. Non mi dice fuori no, papi. Fuori no. Ovvio. Sì, sì, sì. Ovviamente, comunque. Poi, sulle cose con chi stai lavorando, vuoi parlare un po' di cosa stai lavorando? Ma guarda, senza stare a parlare tanto di questo. Però ho scoperto questo progetto proprio nel periodo Covid. Quindi per me è stato il Covid, per molti un periodo molto down, molto brutto, per me è stato un po' rinascita. Un po' riscoprire anche un forte potenziale che ognuno di noi può avere dentro di sé, no? Sì. E ho scoperto questa azienda del settore dell'integrazione, del benessere, che è Herbalife Nutrition, che non conoscevo assolutamente. Sto bevendo qualcosa di nuovo anche, ma è buonissimo. Ma come si chiama questa cosa che stiamo bevendo? Questo è il lift off, per dare un po' energia a Teddy, perché dopo non va a dormire, quindi ha bisogno di svegliere. Sì, sì. E quindi, dicevo, ho scoperto questa azienda, questo progetto, che si è perfettamente sposato alle mie esigenze di vita, no? Quindi nel settore del benessere, nutrizione. E ho detto, perché no far diventare una mia passione un lavoro? Condividendo quel che per me è uno stile di vita sano, attivo, non solo a me, ma anche alle persone vicine a me. E questo col tempo è diventato un progetto di famiglia, quindi che condivido insieme alla mia compagna e chiaramente vogliamo farlo diventare unico fonte di reddito, di famiglia e stiamo andando in quella direzione. Sì, sì, sì. Ho visto che stai spingendo un moto su questo Herbalife, possiamo dire i nomi, perché sembra che non si può dire i nomi. Se vuoi dire i nomi? Sì, sì, certo. Ma che si vede. Infatti, fai vedere di nuovo? Si vede, no? Sì, sì. Herbalife, ma se qualcuno dice, ma cosa è la differenza fra Herbalife, non molto tecnico per qualsiasi persona che sta ascoltando noi adesso, dici cosa è la differenza fra Herbalife e altre aziende? Perché devo... Allora, sono sincero, prima di Herbalife non ho mai provato alcun tipo di integrazione, quindi dirti e darti una risposta su questo precisa mi viene difficile, perché non lo so, non ho mai provato altro. Quindi avevi foto da solo? Senza niente. Sì, però non avevo questi risultati, quindi qualcosa fa, questa integrazione aiuta. Quello che posso dire è che prima di iniziare tutto, voglio dire, ho voluto approfondire sull'azienda, su tutto, chiaramente, è comunque un'azienda leader, è stata la pioniera, perché comunque è sul mercato da oltre 45 anni, in 95 paesi del mondo, è veramente forte. Quando ero piccolo in Africa, mi ricordo che sentivo già di Herbalife. Sì, sì. Guarda, io per il lavoro che facevo prima ho girato il mondo, no? E quindi pian pianino il mio business lo sto espandendo e ho anche gente in Sudafrica. Ah! E questa cosa è fighissima, no? Poter dire, wow, una piccola parte della mia squadra è anche in Sudafrica. È interessante, perché comunque scopri culture diverse, anche prodotti diversi, perché magari in Italia non ci sono. È interessante. Ma qualsiasi persona puoi fare parte di questo tuo gruppo che stai creando o ci sono certe caratteristiche che uno dovrebbe avere per fare parte di questo tuo gruppo? Non c'è nessuna caratteristica se non quella di aver voglia di metterti in gioco e darti da fare, perché essendo un'attività indipendente, nessuno ti dirà mai, Teddy devi fare questo, Teddy fai quello. No, io ti do le linee guida, io ti aiuterò sempre, io sarò il tuo sponsor che ti ha fatto conoscere questo, ma sta a te fare. Non c'è un datore di lavoro che dice fai questo, otto ore al giorno, guadagni questo per 40 anni. No, qui se vuoi ti dai da fare in due, tre anni e hai stravolto la tua vita. Ah, ok, ok. Però sta a te. Quindi non ci sono caratteristiche particolari per iniziare questo tipo di business. Quindi qualsiasi persona puoi fare parte di questo business? Sì, guarda, a volte qualcuno mi dice ma io non sono come te, non sono sportivo. Benissimo, sviluppo la tua attività in un'altra maniera. Chiaramente è basata sul benessere, sull'integrazione, su uno stile di vita sano attivo. Chiaramente non voglio squadre a gente che... Infatti volevo anche chiedere quello che tu hai appena detto, meno male che tu hai detto. Perché volevo chiedere se erano solo persone che facevano un sport, che potevano fare parte di questo gruppo. Meno male che tu hai detto, ma per lavorare con voi, ma cosa si serve? Si serve magari internet, telefono o... Guarda, oggi penso che tutti abbiamo uno smartphone o un pc. È una connessione internet, basta. È la voglia, la voglia importante. Sì, sì. Ma se qualcuno magari, per esempio, qualcuno ti... Io sono nigeriano e lo so che voi pensate che sono italiano, però sono nigeriano. Sono nigeriano. Ma se qualcuno ti dice Scusami, sono nigeria, voglio fare parte di tuo team O voglio comprare qualche prodotto. Come queste persone puoi fare parte di tuo team? O come puoi avere i prodotti in mano? Da Italia a Nigeria, diciamo. Questa è la cosa bella che tu avvi il tuo business con... Meno di 100 euro apri la tua licenza, ma puoi già da subito operare in più di 95 paesi del mondo. Perché 95 paesi del mondo hanno le varie autorizzazioni dei vari ministeri della salute e tutto quanto che non stiamo a spiegare in questo podcast. Semplicemente con due clic io ti posso ordinare e farti avere i prodotti a casa tua in Nigeria, grazie a Herbalife Nigeria. Qui c'è Herbalife Italia, in Spagna Herbalife Spagna. E grazie al mio clic, grazie al mio ordine, a te arrivano i prodotti a casa direttamente dall'azienda locale del paese. Ah, è figo così, è figo così. Quindi non c'è questo problema magari della dogana che magari i prodotti non avevano? No, 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 guarda, assolutamente no. Come ti dicevo prima ho avviato il tuo business adesso in Sudafrica, in Canada, in Spagna, in Svizzera, in Germania. E la cosa bella è questa che avvio con un clic, poi tramite videochiamate, tramite Zoom, si fanno corsi di formazione, la gente impara e poi si avvia, si crea insieme, si cresce insieme. Ah, meno male, meno male, ma è interessante questa cosa, è interessante. Di sicuro quando qualcuno vedo questo video, ovviamente lascerò su Instagram sotto i video, quindi potete scrivere direttamente. Anche perché è una cosa che è importante spiegare, i prodotti, specialmente i costi, dipendono dal paese in cui derivano o vivi. Perché come tu ben saprai, magari 100 euro in Italia, in Nigeria magari equivalgono a 300, a 400 per uno stipendio locale, quindi sarebbe quasi inarrivabile tutto ciò. Sì, sì, sì. Quindi vengono poi magari pagati con la moneta locale o attraverso un monifico bancario, comunque in qualche modo si trova un accordo, no? Ah, ok, 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 va bene, più o meno ho capito come funziona questo accordo. Ragazzi, Teddy sarà il prossimo distributore. Può essere, non si sa mai, perché adesso non ho nessun sponsor di questo canale, quindi Abba Life. Voglio essere contattato da voi. Comunque a me piace anche far conoscere tante gente questa cosa, perché ho visto che ovviamente sono un bravo ragazzo, sono un bravo papà. Essendo, come abbiamo detto, tu stai lavorando, lo so che tu hai ancora un lavoro attuale, poi tu stai facendo anche questa cosa che vedi Abba Life. Come riesci a gestire tutto insieme? Bella domanda. Questa è proprio la fase più bella e più difficile, no? Perché quando avvi un secondo business perché vuoi qualcosa in più della tua vita, non ti accontenti. Nonostante io abbia anche un bel lavoro dipendente, non mi posso lamentare anche dello stipendio perché è un po' più alto della media. Però è pur sempre un scambiare tempo per soldi. Non cambierai mai lì. Se io non vado a lavoro, sì, c'è la mutua, c'è qua per un determinato periodo, poi finirà quello, ok? Mi devo sempre alzare ogni mattina. Quindi la fase iniziale, quando tu hai le due cose in mezzo, richiede tanta più volontà. Quindi magari la sera tu ti dormono, tu ti metti lì un'oretta, o al mattino presto magari tre giorni ti alleni, due lavori al tuo progetto, ma lo fai per te. E quella è la parte magari che la gente trova più difficoltà e quindi tanti mollano, no? Perché non hai il compitino da fare lì, il compitino è per te. Quindi devi metterti tu, trovarlo tu, in modo come, no? Cavoli tuoi, ma devi trovarlo. Ok, ma i prodotti che vendono Sabalife sono solo cose per fitness o ci sono altre cose? No, 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 c'è anche roba per la skin care, per la beauty, per il corpo, chiaramente integrazione a 360 gradi e tanta adesso sta puntando sulla linea H24 che è per lo sport. Ok, ok, ok. Cioè, ti cito solo un nome che forse qualcuno conoscerà, un certo Cristiano Ronaldo, è partnership con l'azienda Herbalife, e non per soldi sicuramente, che non ha bisogno di soldi. Cioè, questa è una grande garanzia, no? Se una persona ha costruito la sua vita sul suo fisico, sul suo corpo, decide di allinearsi con un'azienda ai top level dell'integrazione alimentare. Lo so, conosciamo, quasi tutti conosciamo Cristiano Ronaldo, anche l'ultima volta amici di miei miei compagni è andato in Portugal, ha comprato anche la faccina Cristiano Ronaldo per Jason. Lo so, io che sei in qualche parte qua, quindi non so, tutti conosciamo Cristiano Ronaldo. Ma guarda, magari qualche tuo spettatore conoscerà qualche prodotto di Herbalife, sicuramente, perché ormai nel mercato da tanti anni. Ha creato proprio un suo prodotto specifico, che si chiama CR7 Drive, in base alle sue esigenze, che aiuta proprio a mantenere alti il livello dell'allenamento, quindi non avere mai il calo di tensione, il calo di energia. E' molto interessante. Ah, sì, 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 lo so, lo so. Ma ci sono diversi prodotti che fanno Herbalife. Ci sono diversi, magari se io, per esempio, mi alleno, però non riesco a mangiare sempre, perché la volta, sai com'è, la volta, tu non hai tempo di mangiare verso pausa, eccetera. Ci sono qualche prodotto che possiamo, in sé, per scambiare pasti? Assolutamente sì. E' il prodotto masco in cui è nata Herbalife, che è il Formula 1, che è l'equivalente sostituto di un pasto. Hai tutti i nutrienti che ti servono in sole 220 calorie, da fare molto rapidamente in uno shaker, è un baby mangio, ok? Però è rapido da preparare, non avrai fame, perché molti possono pensare, sì, però io poi ho fame, io devo mangiare, io devo... E' un po' una concezione che, fortunatamente, la gente sta iniziando anche a aggiornarsi su questo, sta un po' cambiando, perché a volte, sai, uno dice, no, ma io ho bisogno di mangiare. Però a volte bisogna anche vedere cosa stai mangiando, no? Perché tu magari vai a mangiarti un panino al bar, e una bottiglietta d'acqua o un caffè, hai speso 8 euro, ok? Molto facilmente. Ma, ma, di più... E analizza cosa hai mangiato, due fette di pane, una sopra l'alto, due fette di prosciutto, se sei fortunato, una di pomodoro e una di formaggio. Cosa c'è di concreto nel tuo pasto? Poco. Po' di carboidrato, poca proteina. Anche, non sono neanche carboidrati buoni. Esatto. Perché la pane bianca... Esatto. Magari è focaccia anche per la unta di olio, esatto. Quindi, sai, a volte dici, il Formula 1, un pasto sostitutivo, è anche da vedere come un pasto intelligente, no? Perché tu hai tutti i nutrienti lì dentro, quindi vai a nutrire tutte le tue cellule del corpo, quindi senza andare a dare scompensi, di cui aggiusto apporto proteico, carboidrati, vitamine, minerali, hai tutto. E ti assicuro che inizi a riscontrare anche più energia, non hai quella digestione lenta che ti porta un po' di sonnolenza a volte. E' molto, molto interessante questo... E l'azienda è nata con questo prodotto. Ok. Ma che tipologia di persone possono avvicinare i prodotti di AbaLife? Magari se uno sta provando di dimagrire o sta provando di aumentare massa muscolare o sta provando di aumentare sua massa in generale. E' aperto per tutte queste persone o c'è solo uno, in generale? No, 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 è aperto a tutte le persone. Si fanno dei programmi personalizzati. Io personalmente offro quel che è una valutazione corporea e quindi andiamo a capire quelle che sono le esigenze, quelli che sono gli obiettivi che una persona vuole raggiungere, se è un programma perdito peso, un programma aumento massimo, se è un programma anche solamente benessere, che la persona sta cercando più energia, no? Perché si sente stanca, perché arriva alle sei di sera che è cotta, non ha più voglia di fare nulla. Dipende, bisogna cercare di ascoltare le esigenze e da lì ormai la gamma dei prodotti è tanto vasta che puoi personalizzare molto bene un programma. Allora, tu hai detto prima che non hai mai usato integratori, però tu hai iniziato con Abalife e poi mi hai detto che allenavi prima o prima hai visto tanti risultati. Cosa dei risultati che hai visto usando Abalife? Allora, innanzitutto, quello che io ho riscontrato prima, adesso io mi sto allenando al mattino da quando sono diventato papà, per non togliere tempo e tutto quanto. Però prima mi allenavo dopo le 5, dopo lavoro andavo in palestra, ma tante volte arrivavi proprio con la voglia sotto le scarpe. Dici, vabbè, sì, vado in palestra. Infatti i miei risultati erano sempre molto scadenti, cioè anche avevo uno stile di vita molto diverso tra feste, discoteca e chiaramente da solo, quindi sai. E quello che ho riscontrato quando ho iniziato a... Io ho iniziato semplicemente con una colazione, ok? Poi da lì ho iniziato a integrare con tanta altra roba. Ho iniziato proprio ad avere energia, voglia di allenarmi, vitalità. Mi sentivo in forma e dopo quasi un mese, che magari adesso la trovo anche, vi mostro anche un po' una foto di come ero fino a qualche anno fa. Io pesavo 8 chili in meno e sembravo più ciccione, cioè quindi ho proprio rimodellato il mio fisico. Vada a me. E dopo un mese inizio a vedere queste classiche maniglie dell'amore, sai no? Sì, sì. E inizia a asciugarsi. E ho detto, wow, aspetta, ho cambiato colazione. Cioè non è più latte e biscotti, sto facendo un frullato. Più alo infuso. La classica colazione è molto base. E mi è iniziata a piacere subito. Anche il gusto era molto buono. E da lì, risultato dopo risultato, dopo noi abbiamo creato quello che è un piano per ritornare in forma in maniera molto semplice, no? Che si chiama Fit Plan. Quindi che diamo piccole sane abitudini ai nuovi clienti per non stravolgere la loro dieta, non fare nessuna, cioè la loro vita. Quindi non facendo nessuna dieta, ma migliorando il tuo stile di vita, no? Con piccoli accorgimenti, iniziando da una colazione. Perché? Perché è proprio il pasto più importante della colazione. Perché tanti pensano, ah, un caffè vado via. E' ovvio che non hai benzina nel corpo per andare avanti. Sì, sì, sì. E la colazione è molto importante. Anche a volte io faccio pancake. Ok. Certo, poi ovviamente per te, però ultimamente sono sincero che sto comprando quello lì già fatti. Poi la mattina lo faccio, anche se lo so che non è uguale come quelli che non fai da solo. Ma non ti preoccupare, Tendi, un preparato per i pancake. Ah, sì, sì, ma cake avete tanti gusti. Sì, sì, sì. Dei prullati sono tantissimi gusti. C'è un preparato dei pancake, adesso è nuovissimo questo prodotto, che è fantastico, perché è a base di albume, quindi molto proteico, che tu semplicemente aggiungendo acqua, mescoli un po', metti in padella, e due minuti dopo anche il ponte. Ah, mamma mia, è così. Tendi, posso far vedere com'ero? Sì, 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 fai vedere. Vediamo. Questo ero io. Oh. Dopo due anni di dedizione e impegno, direi che il fisico è un po' cambiato. Sì, sì, è molto cambiato. Ho migliorato anche il mio studio di vita e nonostante ciò ho avuto due bambini. Chiaramente non l'ho partorito io, ragazzi. Un po' ti cambia la vita ai bambini, giusto, Tendi? Sì, ti cambia molto, però sono una gioia, eccetera. Almeno, sono contento che abbiamo, siamo riusciti a parlare di questo Ava Life e spero che farò ancora altri puntati così, più organizzati, perché oggi ho messo 100.000 ore per fare tutto insieme, però mi fa piacere che sia venuto e sia passato, perché da un po' di tempo che dicevo che dobbiamo fare questo Ava Life, a parlare di questo prodotto, non siamo riusciti a farlo, però sono contento che oggi siamo riusciti a parlare di questo corso. Stavo provando di fare qualcosa sul computer e ovviamente non sono riuscito, quindi ho cambiato così, quindi... Ok, lascia, Pedro. I give up, I give up. Ma c'è qualcosa che vuoi dire a chi sta provando di avvicinare a questo mondo di Ava Life? Magari qualcuno che non è ancora convinto, c'è qualcosa che puoi dire a queste persone? E avvicinarsi in che senso? Ai prodotti, provare? Sì, in senso provare anche i prodotti o mettersi in gioco, c'è qualcosa che... Sì, ma guardate, io ho iniziato per curiosità, perché la mia ragazza, all'epoca quando mi ho iniziato a convivere, ce li aveva i prodotti lì in casa. Io li vedevo, ma sono molto io, ma perché è un mio carattere questo, Vivi lascia vivere, c'è nel senso, stai bene? Ok, va bene così. Con il lockdown è nata anche un po' la curiosità, perché mi è stato chiesto, vuoi provarlo? E ho detto, perché no? Perché io sono sempre lì, è una cosa che è meglio provarla, poi do il mio giudizio, perché dirti, no, quelle cose non fanno per me, se non l'ho mai provata, non posso sapere se fanno per me o non per me. Quindi, io che, chi è magari alla ricerca di, appunto, come diciamo prima, di avere un po' più energia, o iniziare a migliorare anche le sue performance sportive, è sicuramente l'azienda leader nel mercato. Va bene, sono contento che siamo riusciti a fare questo video, e ovviamente, ovviamente ora devo scappare. È stato un piacere. Anche per me, anche per me, speriamo che possiamo fare di più, anche intervistare anche alcune persone di tuo team, magari anche su stream, non ne proposte. Guarda, se vuoi ti propongo un nuovo podcast, la prossima volta, magari lo facciamo in un orario diverso, e facciamo un bel testing in diretta, che ne dici? Ok. Un bel frullato. Sì, sì, un bel frullato. E lo commenti tu, eh? Già questo mi piaceva, vedi? Ho già finito, ho già finito, e cosa vi hai fatto? Ma mi sei simpatico, te di tenere il regalo uno per stanotte. Hai visto? Infatti, perché stanotte non vado a letto presto, ovviamente, mi può aiutare. Grazie mille. Grazie a te. Ci vediamo al prossimo video. Salute a tutti, chi guarderà questo video. Ciao ragazzi, ciao follower di Teddy. Ovviamente, metto un link, il profilo di mio amico, Manuel. Sì, qualcuno che ha qualsiasi dubbio, non esitate a chiedere, ho un profilo aperto, non vi mangio. Potete scrivere a lui, perché lui è un bravo, molto, molto, molto bravo a vendere. Infatti, adesso lui mi sta provando di convincere, di venire a Abba Life. Aspetta, Teddy, una cosa, io non voglio convincere nessuno. Ah, ok. Io voglio farti conoscere questa opportunità, perché sono sicuro che è nelle tue corde. Ok. Ma non ti voglio convincere. Va bene, allora magari io provo i pancake, ti prometto che provo i pancake, e vedo lo mio. Anche, guarda, io non sono senza anche poter dire, magari posso anche provare vostra, per vedere se... Il recupero muscolare. Guarda, piccolo dettaglio, la linea sportiva e partnership col CONI. Basta, non dico niente. Va bene. Unica azienda di integrazione a collaborare col CONI. Sapete che cos'è, no? Va bene. Ok, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Grazie. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti.